Salve a tutti gli utenti del canale Spazio Games, sono Dr. Mirx e oggi abbiamo il sedicesimo episodio dell'analisi classi per Call of Duty Black Ops 2. Oggi è il turno di analizzare, finalmente, un fucile a pompa, l'M12-16. Dunque, l'M12-16 è uno dei quattro fucile a pompa disponibili all'interno del multiplayer di Call of Duty Black Ops 2, anche nella modalità zombie. Ma, innanzitutto, analizziamo le caratteristiche. È un fucile a pompa un po' anomalo, perché ha questo caricatore rotante, cilindrico. Ogni quattro colpi vedrete il vostro personaggio che ruota il caricatore per spostarsi in un altro settore del cilindro stesso, quindi per avere altri quattro colpi a disposizione. In tutto abbiamo 16 colpi. Quindi voi penserete che ci sarà, ovviamente, una gran possibilità di usare molti colpi, quindi tanti nemici da uccidere. Beh, non è così, perché, secondo me, l'M12-16 si distingue nettamente dagli altri fucile a pompa per una grossa caratteristica. Non ha danno. Cioè, proprio il danno è come se fosse inesistente. Servono una marea di colpi per uccidere un nemico. Se siete da brevi distanze, quindi da circa un metro, fate conto, un metro e mezzo, allora basterà certamente un colpo, anche due. Da più in gara fa nettamente più fatica, quindi serve almeno un caricatore per uccidere un nemico. Una cosa che può essere positiva, che compensa questo fatto del danno praticamente inesistente, è il fatto che sia automatico. Quindi questi quattro colpi vengono sparati automaticamente, anche se svaniscono decisamente molto rapidamente. La partita che vedete è un deathmatch a squadre su ijacket, con un M12-16 dotato, dopo comunque andremo a vedere la classe, comunque dotato di canna lunga. Quindi, comunque, un M12-16, devo dire, che presenta sia accessori, però diciamo, non ha grandi accessori. Cioè, è un'arma che secondo me non si presta molto allo sfruttivo di zone, è un'arma buona. Comunque, allora, la partita come vedete è un deathmatch. Potete vedere che comunque, anche se è una mappa piccola aijacket, comunque faccio molta fatica a uscire dei nemici, proprio come ho detto, per il danno totalmente inesistente, già da una certa misura di una distanza in poi. Quindi questo decisamente penalizza l'arma. Non a caso, diciamo, l'arma può essere utilizzata in mappe che presentano spazi decisamente, decisamente più piccoli rispetto a mappe che presentano spazi sconfinati. Quindi, certamente, potrei non consigliarvi mappe come Aftermath, Cargo, Carrier, Turbine, Ride. Quindi, spazi più aperti che chiusi, dove decisamente il fatto di avere un danno praticamente nullo da una certa distanza in poi non vi aiuta per niente, anzi, vi sfavorisce nettamente. Come classi, allora, abbiamo una classe che ovviamente, come sapete, è la mia classe multiplayer classica, quindi sciacallo, acciaio, inflessibile, fantasma. In questo caso, appunto, ho detto con questo S12 dotato di canna lunga. Potete anche inserirvi una secondaria. Certo, le S12 dotato di canna lunga potete anche utilizzare un mirino laser, quindi come una sorta di mira stabile, il mirino laser vi dovete indirizzare i colpi dove volete. Sappiate, comunque, di dover tenere sempre in considerazione il fatto del danno. Quindi, a questo potete associare, per esempio, anche qui un'inflessiva perché comunque serve, si fa fatica veramente tanto a uccidere i nemici. Quindi, servono parecchi colpi, vi consiglio di recuperarli dai cadaveri per terra. Come, per esempio, posso anche consigliarvi, anche qui acciaio, per esempio, se un nemico vi spara, valgono sempre le solite cose che dico anche per altre classi. Se vi spara, i colpi vanno a finire da una parte che totalmente non c'entra nulla con il colpire il nemico, quindi vi consiglierei anche acciaio. Unita a un mirino laser potrebbe anche essere una buona soluzione. Quindi, ricapitolando le caratteristiche fondamentali dell'M12-16, cosa ci piace e cosa non ci piace? Cosa ci piace? Devo dire poco. L'unica cosa che, secondo me, bisogna tener conto è che la velocità di corsa del personaggio è come quella di una mitraglietta. Questo certamente vi favorisce in quanto a velocità e a rapidità di movimento. Cosa non ci piace? Tante cose. Quello per assumere in due caratteristiche principali. La prima è che è la mancanza totale di danno, quindi un danno che veramente è ridicolo per essere un fucile a pompa. Cioè, fa più danno a momenti l'executioner come pistola, che è un caricatore di cinque colpi ed è una pistola normale, non è un fucile a pompa. Seconda cosa che non mi piace è la distanza, quindi la portata dell'arma agitata di colpi, che è praticamente da qui a lì è un metro neanche. Andando già più in là, come vi ho detto, è decisamente più faticoso uccidere i propri nemici. Perfetto, con questo concludiamo questo sedice di un episodio. Fatemi sapere con un commento, ovviamente, come utilizzate, se lo usate, se vi piace o meno. Certamente a me non piace, perché devo dire un'arma decisamente pessima rispetto agli altri fucile a pompa, come al grandissimo KSG che abbiamo recensito negli episodi precedenti. Quindi fatemi sapere, come sempre. Vi chiedo anche di lasciare un like e di iscrivervi, come sempre, al canale Spazio Games. Qui dottor Mirax e ringrazio per aver visto questo video. Ciao a tutti!